Per quello che riguarda la legge elettorale io vedo questi nodi, vedo il nodo del fatto che dobbiamo costruire un meccanismo nel quale ridiamo lo scettro al principe costituito dal popolo per quello che riguarda l'elezione dei deputati e dei senatori, ma non dobbiamo in cambio toglierglielo per quello che riguarda le coalizioni e anche possibilmente l'indicazione del Presidente del Consiglio.